Buongiorno Michele, mi permette di presentarle il nostro menù, qui potrò trovare una selezione di ostriche e frutte di mare che noi importiamo direttamente dai piccoli produttori francesi, una piccola proposta menù giornaliera che viene stilata in collaborazione con la cucina e tutto il nostro menù con le nostre proposte di ricette. Inoltre il nostro pièce de resistance, il nostro pezzo forte, essendo un ristorante tipicamente marinaro, sono i carpacci di pesce crudo che il nostro chef le preparerà direttamente da fronte al taglio. Mi permette inoltre di consegnarvi la carta dei vini, dove troverà un'ampia gamma di vini bollicine nazionali e internazionali che spaziano dal nord dell'Italia fino alla Sicilia e anche una piccola pagina di vini dall'estero. Tutte queste ostriche, ma da dove arrivano? Allora, le ostriche sono direttamente, l'importazione di rette che ho a che fare con un piccolo produttore in Bretagna e in Normandia. E sono più di vent'anni che faccio l'importazione diretta. Perciò tutti i giovedì le ostriche arrivano diretto dal fornitore a casa mia entro le nove di mattina. Pesce crudo e pesce cotto? Allora, pesce crudo e pesce cotto vuol dire questo, che nel nostro menù troviamo un vasto assortimento di cucina di pesce. E' tantissimo il proposto di pesce crudo, che non vuole essere né sushi né sashimi, ma si è definito carpaccio all'italiano. Poi, il cotto, possiamo fare più preparazione, dalla tradizionale assane alla griglia, o al vino bianco, o ai capperi, o le zuppette eventuali di scorforo e di gallinella. Una cosa è certa, in questo posto non troveremo mai un prodotto di allevamento o sul gelato. Mi è già venuta fame, non so voi. Vorrei parlare di ostriche. Questa è una Belon, definita anche la piatta di Belon. Ed è un'ostrica che cresce principalmente in Normandia. E' leggermente più croccante di una fin de clair e meno salata. Qui siamo con le fin de clair. Questa è la quiberon di Bretagna a misura piccola. La stessa quiberon di Bretagna la troviamo a misura grande. Una G2, vuol dire che ha più anni di vita, ed è una speciale di clair. Addirittura definita la verde. E qui siamo sull'isola di Doleron, con un piccolo produttore, che marchia il suo prodotto come la bella Doleron di Marendoleron. E qui siamo sull'isola di Doleron. Michele, allora, cosa ci prepari di buono? Oggi faremo una cosa un po' mista. Cucineremo uno spaghetto di gragnano tirato al bronzo, che lo faremo con la carbonara. Ma chiudiamo questo piatto con del musciame di tonno e del tonno fresco crudo. Il che vuol dire una carbonara rivista alla marinara. Il che vuol dire un po' misto è un po' misto è un po' misto è un po' misto. E' un po' misto è un po' misto. E' un po' misto è un po' misto. E' un po' misto E devo mangiare insieme? Avevo mangiare insieme. Ciao caro, buon appetito! Grazie a tutti!